Direttore generale, è lecito ed è giusto sorridere al termine di questo Atalanta Udinese perché possiamo definirlo il Bellini Day sicuramente, è stata la festa dell'Atalanta, una festa nerazzurra, uno stadio con 20.000 persone, cioè chi più ne ha più ne metta. Due grazie, uno a Giampaolo per quello che ha fatto in Atalanta in questi anni e sono convinto che farà ancora tanto per Atalanta. È un grazie a chi ci ha sostenuto i 20.000 di oggi ma anche a chi non ci ha abbandonato nei momenti di difficoltà perché ci sono stati anche alcuni mesi dove la squadra ha avuto qualche difficoltà, come è giusto che sia perché è normale. È stata una stagione partita fortissimo, abbiamo fatto un giorno d'andata meraviglioso, poi è stata una pausa e poi ci siamo ripresi e salvarsi a tre giornate alla fine penso che sia il massimo. Poi la cilicina sulla torta è stata la prestazione di oggi di Giampaolo con il gol. Veramente un sogno. Ecco, un sogno. Alcune volte i sogni si realizzano. Giampaolo penso che l'abbia realizzato. Lui Bergamasco-Doc, giocare 26-27 anni con la maglia nero-blu penso che sia il massimo per lui. Ci teneva a chiudere questa parentesi sul campo nella maniera più decorosa possibile. Penso che l'abbia fatto. Una stagione positiva quando si raggiunge l'obiettivo, seppur qualcuno ha detto obiettivo minimo, è comunque positiva, che è la salvezza. La salvezza sì, perché noi dobbiamo rimanere l'Atalanta, dobbiamo rimanere a essere umili con lo spirito bergamasco di chi non molla mai, di chi sa quali sono i propri limiti e che deve dare il 110%. Questa è la nostra forza, deve esserlo oggi e lo dovrà essere anche domani.